Ma che cosa risulta? Mi perdoni, dalla sua mente, dalle vostre idee, ma non avete detto niente a nessuno, io mi sono presentato qui, mi hanno fatto iscrivere mia figlia e dopo me si chiudete la scuola, ma che sistema è? Ma fatemi un esame di coscienza, ci sono dieci insegnanti, dieci insegnanti che devono ricevere ancora cinque si vede, i soldi danni di regione, fateli apprendere le regioni, i soldi d'apri i bapponi, vengono qua, mai ragione per rendere i soldi, non ho mai il bilancio del canale, Non ho il bilancio del canale, no, prima o 20 giorni fa, no, prima o 20 giorni fa, dirglielo pure ai vostri reperetti, bene, non sapevo che questi insegnanti dovevano avere cinque si vede, i soldi sono in regione, vengono qua, ma andiamo lì, fateli apprendere i soldi, non abbiamo soldi.